Questo video è un'integrazione al video di domenica scorsa, quello dei kart e mi serve più che altro per raccontare appunto quelle che sono state le mie sensazioni e devo dire che è stata una figata pazzesca andare a provare questa cosa perché è una cosa che è stata divertentissima tra l'altro è stato bello perché l'ho potuta condividere con mia moglie che anche lei si è divertita un casino e quindi volevo solo dire questo, è stata un'esperienza prettamente ludica è stato un po' giocare, ma giocare fa bene anche se non si è più giovanissimi anzi come si suol dire si invecchia quando si smette di giocare e non viceversa detto questo mi rimane solo un altro piccolo debito ed è il consiglio sul libro il libro che voglio consigliare questa settimana rimanendo in tema visto che la sua carriera sportiva, quella sua diciamo è quella di tutti i piloti di Formula 1 praticamente partono dal kart la sua carriera è partita dal kart volevo consigliare il libro Volevo solo pedalare di Alex Zanardi in questo libro mi ha colpito tantissimo la personalità di Zanardi che è veramente una persona eccezionale ma soprattutto una frase mi è rimasta impressa ed è stata il fatto che dopo l'incidente credo al Sachsen comunque in Austria quello con la formula Indy in cui lui appunto ha perso le gambe quando si è svegliato e ha realizzato di aver perso le gambe il suo primo pensiero è stato vediamo cosa posso fare con quello che mi rimane ed è un ragionamento che per me è importante anche se non riesco sempre ad applicarlo io spesso purtroppo mi focalizzo su quello che non ho o su quello che ho perso che è stupido perché se non ce l'hai quindi non lo puoi usare ed è forse il concetto più importante che mi è rimasto di quel libro il fatto appunto di fare del proprio meglio con quello che si ha perché tanto non si può cambiare la situazione e quindi è così that's it questo è